I colpi inferti a Giulia Tramontano sarebbero almeno 37, questo è ciò che le cronache recenti raccontano rispetto ai parziali e ai siti adottici. Questo dato, di per sé rilevante anche per comprendere il moto interiore che ha animato la condotta di Alessandro Impagnatiello, può essere ritenuto rilevante anche ai fini della sussistenza dell'aggravante della crudeltà. Lo vedremo nel corso di questo video, però quello che mi preme evidenziare praticamente subito all'inizio di questo contenuto è che non è sufficiente il dato numerico dei colpi inferti per ritenere integrata questa circostanza. Qui la questione è molto problematica perché tra l'altro di recente, oddio non proprio di recente ma non lontano del tempo, si è pronunciata la Corte di Cassazione a sezioni unite, cioè il massimo collegio nomofilattico, la massima autorità nell'interpretazione delle leggi dicendo sostanzialmente che il numero di colpi di per sé non è sufficiente per ritenere integrata questa aggravante e sotto altro aspetto ha chiarito che il dolo d'impeto, cioè quella particolare spinta motivazionale che ti porta ad agire in quel modo all'improvviso è compatibile con l'aggravante della crudeltà per cui l'una non esclude l'altra. Ora come sai, l'ho già detto anche in un video precedente, quando il GIP ha convalidato il fermo applicando la misura carceraria in Pagnatiello ha escluso sia l'aggravante della premeditazione sia quella della crudeltà. Questo sul presupposto che in quel momento storico non ci fossero elementi tali da far desumere la sussistenza delle due aggravanti in parola. E ti ho detto anche di scindere, di dividere i piani, quello morale ed etico, da quello giuridico perché il concetto penalistico di crudeltà diverge parzialmente da quello etico. Qualsiasi delitto contro la persona, doloso chiaramente, cioè volontario, è infatti connotato da un certo grado di crudeltà. Ma che cosa si intende per crudeltà penalmente rilevanti? E questi 37 colpi possono far riprendere vita, vigore, all'aggravante contestata dal Pubblico Ministero? Secondo la Corte di Cassazione la circostanza aggravante dell'aver agito con crudeltà che è prevista dal 61 numero 4 del codice penale è caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale. Che tradotto significa che è chiaro che tu intendi fare del male a qualcuno e lo fai con crudeltà ma non basta l'atto in sé perché quel tipo di crudeltà è già previsto dalla norma che incrimina un certo fatto. Piuttosto la condotta nel suo complesso, perché se è idonea a configurare l'aggravante di cui parliamo deve determinare sofferenze aggiuntive ed esprimere un atteggiamento interiore particolarmente riprovevole. In buona sostanza è necessaria una ulteriore spietatezza nella gente e delle modalità dell'azione eccedenti il naturale intercriminoso che mostrano in questo modo una riprovevolezza ulteriore e diversa che giustifica l'aggravamento della pena. Questo dato già ci fa capire una cosa importante. Questa riprovevolezza aggiuntiva che consente al giudice di aumentare la pena riguarda l'azione, non riguarda l'autore della condotta. Si condanna cioè una persona più severamente perché la condotta è connotata da particolare ferratezza e non perché l'agente è una persona crudele. Ragionare diversamente ci farebbe tornare molto indietro nel tempo sul piano dei diritti che sono stati poi la conquista del nuovo modo di vedere costituzionale. Quindi l'attribuzione al diritto penale di un'impronta autoriale cioè punire perché si è qualcosa e non perché si è fatto qualcosa è un modo di vedere che richiama il diritto penale d'autore assolutamente lontano dai moderni orientamenti improntati ai diritti umani. Inoltre il dato normativo è chiaro. Il rimprovero riguarda la condotta posta in essere nel corso dell'esecuzione del reato e non l'autore del reato. La giurisprudenza di legittimità in molte occasioni ha espresso un principio di diritto a proposito di vicende tutto sommato simili a quella che ha visto coinvolta la povera Giulia e il suo compagno Alessandro. Vicende cioè caratterizzate dalla insistita ripetizione dei colpi inferti alla vittima ed ha costantemente affermato che l'accanimento violento può costituire crudeltà ma solo quando gli atti non sono funzionali al delitto e costituiscono una espressione autonoma di ferocia ulteriore che trascende che va oltre il mero fine ultimo di commettere quel reato. Questo principio è stato ripetuto anche in altre occasioni e per sintetizzare la speciale aggressività la vemenza il furore aggravano il reato solo quando non trovano giustificazione nella dinamica per realizzare il delitto cioè quando eccedono la normalità causale e costituiscono quindi espressione della volontà ulteriore di infliggere sofferenze eccentriche cioè non direttamente finalizzate a determinare un certo evento. E se ci pensi nella vicenda di Parolisi e Melania Rea che ricorderai anche lì nonostante il numero di colpi fu esclusa l'aggravante della crudeltà e quando i giudici di merito avevano ritenuto sussistente addirittura prevalente l'aggravante della crudeltà la corte di Cassazione ha censurato la sentenza dicendo che per determinare se si sia configurata questa aggravante è necessario prima esaminare in modo dettagliato come è stata condotta l'azione e il relativo elemento psicologico. L'aggravante appoggia le basi sul fatto che il suo autore intenda infliggere una pena una sofferenza ancora più severa per la sua intenzione di causare appunto sofferenze aggiuntive rispetto a quelle normalmente coinvolte nell'evento e la circostanza della crudeltà è a colpevolezza dolosa significa in sostanza che il moto intimo cioè quello che muove una certa condotta è deliberato consapevole conclamato è un proposito di andare oltre le normali sofferenze che sono normalmente inferte da una persona che intende compiere un certo reato la ricerca per la sussistenza di questa aggravante perciò necessita di una accurata indagine sulle scaturigini dell'azione sulla vicenda nel suo complesso e sul suo autore quindi esiste un problema di colpevolezza dell'aggravante rispetto al quale può assumere rilievo la condizione alterata della gente e in definitiva quindi ci sono tantissimi tasselli ancora da mettere insieme per avere un quadro ben definito meglio definito di questa vicenda d'altra parte siamo ancora nelle indagini preliminari e dare tutto per scontato in un senso o nell'altro potrebbe rivelarsi troppo furviante tra l'altro gli esiti dell'esame autoptico che sono stati disvelati dai media allo stato sono soltanto parziali e maggiori dettagli anche con riferimento alla eventuale premeditazione del delitto potranno essere compresi soltanto quando alla fine le operazioni di consulenza tecnica saranno definitivamente concluse è il diritto penale che stai